E lo so, lo so, vi state scocciando, non sapete che fare. Non lo dite a me che so con le mani in fronte tre figli a casa, non so proprio da dove prendere e cosa fargli fare tutto il giorno. Però, però, come abbiamo fatto in Pantacù, potreste leggere una storia, perché leggere una storia vi fa uscire di casa senza uscirne. E quindi potete viaggiare, potete camminare, potete andare in altri posti. Insomma, potete fare quello che vi pare con la vostra fantasia. E questo è l'agurio per questi 15-20 giorni che passeranno e poi tutto dopo andrà bene. Anzi, vi posso garantire che andrà meglio. Quindi, leggiamo tante, 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 tante storie. Ciao!